Abbiamo assaggiato e selezionato per te prodotti artigiannali, biologici e certificati DOC di OCG e di GP. Poi li abbiamo portati nel cuore della tua città. Radici Italiane è il nuovo shop in via della Madonna a Pistoia dedicato a te, che ami gustare i prodotti della tua terra e portarli a tavola in un virtuale viaggio dal Trentino alla Sicilia, passando per la tua amata Toscana. Perché ogni luogo ha il suo sapore e quel sapore a Pistoia lo trovi da Radici Italiane.